Se prima ero tra questi fotografi, in questa foto ho fatto 30 passi indietro e ho documentato la scena. Ci vorrebbe un metodo, ma io non ce l'ho quasi mai. Ho trasformato la mia camera d'albergo in una piccola camera oscura. Quando nacque il rock'n'roll, il sottoscritto aveva l'età della ragione, e non solo della ragione, ma penso che ragionava un po' meglio degli altri. È meraviglioso perché è un momento in tempo. È una situazione di estrema tolleranza che secondo me è un'esperienza meravigliosa. Tanta energia da scambiare con te che stavi dietro alla macchina fotografica. Non c'era qualche cosa in me che diceva che avrei dovuto scoprire la musica, a cui sarei appartenuto totalmente. In quell'epoca rimane nell'immaginario contemporaneo una sorta di favola. E il resto è la storia di rock'n'roll. E il resto è la storia di rock'n'roll. E il resto è la storia di rock'n'roll. E il resto è la storia di rock'n'roll.